Ciao amici di Italia Top Games, oggi è una prima volta, di cosa sto parlando? Del fatto che da 15 anni recenzisco videogiochi, ma questa è la prima volta che recenzisco un gioco cinese. Evil Genome è infatti stato creato da una software house cinese, è un titolo uscito per PC, su Steam, in digital delivery, l'abbiamo preso lì, l'abbiamo scaricato da lì, e si tratta di un titolo discretamente interessante, come state potendo vedere si tratta di un gioco in 2D, due dimensioni e mezzo in talune occasioni, e che rimanda da vicino a quelle che sono quelle esperienze di gioco chiamate Metroidvania, ovvero Metroidvania sta per un titolo che mescola elementi della serie Metroid, dei primi episodi di Metroid in 2D, con Castlevania. Quindi siamo di fronte a un action RPG, si può dire un po' di platform, un po' di beat'em up, combattimenti con spada e pistola, una crescita del personaggio stile RPG, all'interno di un universo immaginifico fantascientifico, per così dire. La nostra protagonista era nel bel mezzo di un viaggio interspaziale, doveva andare in un pianeta, invece si ritrova su un altro, ha perso la memoria in gran parte, e deve un po' cercare di ricostruire la sua vita, di ricostruire un po' quella che è la realtà delle cose, e di capire un po' come stanno andando le cose, lo farà su questo pianeta sconosciuto, che vivremo sia in superficie che sottoterra, come vedrete nei prossimi momenti del gioco che state vedendo. Cosa dire di questo Evil Genome? È un titolo che si lascia giocare molto piacevolmente, devo essere sincero, è piacevole, soprattutto, questo bisogna dirlo, a chi ha vissuto l'epoca del 2D, non come retrograming, ma come quello che giocavamo negli anni 90, tendenzialmente nei primi anni del 2000, prima che arrivasse l'avvento del 3D. È un gioco che è privo di difetti evidenti, se non un eccesso di chiarezza nella grafica, come potete vedere, certo questo è un filmato, quindi c'è un po' di perdita della qualità, però in generale il titolo lo troviamo leggermente troppo chiaro rispetto alle scelte cromatiche che abbiamo messo sul nostro monitor. Però nel gioco si lascia giocare, ha qualche elemento pure puzzle, ha un po' di trama non particolarmente originale, né particolarmente profonda, però c'è qualche mistero, fra virgolette qualche giallo, ci sono i mostroni di fine livello che sicuramente sono piacevoli, Certo, il sistema di combattimento è piuttosto semplice, piuttosto basico, per così dire, l'intelligenza artificiale dei nemici non è neppure elevatissima, qui come vedete ci sono degli uomini che si muovono veramente poco rispetto a quella che potrebbe essere una dinamica più elevata, però dobbiamo dire che siamo rimasti piacevolmente sorpresi a questo titolo, anche dal design che non è particolarmente raffinato, ma al tempo stesso fa la sua buona figura, un po' cyberpunk, un po' mech, un po' manga, dai, cioè mescola vari elementi in modo adeguato, in modo non diciamo raffinato, ma piacevole, conguro. Ecco, quindi un titolo senza né particolari qualità verso l'alto, ma neanche verso il basso, un titolo discreto, anche per questo diamo un bel 7 ai volgenoma, anche perché la longevità è piuttosto elevata per il genere di appartenenza, perché comunque il prezzo di vendita non è elevatissimo e poi diamo un segnale di incoraggiamento, come dire, alla nuova industria videoludica cinese, noi siamo sempre molto aperti alle novità, ovviamente siamo vicini all'industria italiana, però come c'è quella americana, come c'è quella inglese, come c'è quella europea, è giusto che anche i cinesi abbiano i loro videogiochi fatti da loro, e non solo essere consumatori, perché penso che avete letto molto di come i videogiochi si stiano espandendo in Cina sul lato del consumo. Ecco, quindi, un bel set di Volgenoma, ovviamente, come dicevamo in apertura, è un titolo per chi apprezza il 2D, le dinamiche gameplay 2D, e non quelle esclusivamente del 3D, perché il Volgenoma non fa nulla per andare oltre quelle dinamiche, quelle coordinate ludiche che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni. Però fa tutto in modo discreto, adesso io ho concluso nel raccontarvi quello che c'era da dire su questo titolo, però andate avanti a guardare il video senza il mio accompagnamento vocale, che anche oggi non è il massimo a causa di un malanno di fine estate, inizio autunno, arrivati fino alla fine perché c'è il primo mostrone finale, in pratica in questo video di gestione vi abbiamo fatto vedere il primo livello di gioco, per così dire, e il mostrone è una bella lotta, già questi qui vi fanno paura, ecco, vedete level up, quindi nuovi poteri, albero dei progressi, eccetera, eccetera. E appunto, arrivate fino alla fine, qualche altro minuto, e così vi gustate anche il mostrone. Io vi ringrazio per l'ascolto, per l'attenzione, vi do appuntamento sul nostro canale YouTube, Italia Top Games, sul nostro sito, www.italiatopgames.it, vi ricordo che tutti i giorni trovate tante novità, e che giovedì 28 settembre, se avete il PC o la Playstation 4, c'è da vincere un bellissimo premio, un headset di creative, microfono e cuffie, veramente di alto livello. Su italiatopgames.it trovate tutti i dettagli per questo contest da non perdere, in collaborazione con Simpli Radio. Vi lascio i volgenom, il voto ve l'ho già detto, ciao e alla prossima. Ciao e alla prossima. Ciao e alla prossima. Ciao e alla prossima. Is there something you want to say? That attack speed was slow. My previous data didn't generate a need for alarm. Letisus, air quality has deteriorated. It's not safe to breathe here. I'll need to find something to set upon this switch to trigger it. Warning. Warning. This creature is measured very high at radiation levels. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.